... Gentili telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avviso d'Asta. A tal proposito desidero ricordarvi che il Tribunale ha concordato con alcuni istituti di credito condizioni particolari di prefinanziamento e finanziamento per l'acquisto di immobili all'asta. Iniziamo con il pignoramento numero 178 del 2006, previsto per l'11 gennaio 2012 alle ore 12 nell'Aulacca del Tribunale di Treviso. Si tratta di una villetta bifamiliare a due piani con scoperto di pertinenza per totali 484 metri quadrati. La villetta è composta da due appartamenti ai piani terra e al primo piano, oltre a due negozi adiacenti al piano terra. Si trova a San Zenone degli Ezzelini, in via risorgimento numero 175, è occupata dagli esecutati. Il prezzo base d'asta è di 170 mila euro, con offerti nel rilascio minimo in aumento di 5 mila euro. Vi ricordo che questo bene si trova in custodia all'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso. Ed ora il pignoramento numero 123 del 2004, previsto per il 18 gennaio 2012 alle ore 12 nell'Aulacca del Tribunale di Treviso. Si procederà alla vendita senza incanto e a seguire con incanto di un lotto unico per l'intero. È un villino unifamiliare di 238 metri quadrati commerciali, con uno scoperto di 771 metri quadrati a ghiaia e giardino. Il villino è composto da portico, ingresso, cucina, bagno, dispensa, lavanderia, centrale termica e garage al piano terra. Ma anche disimpegni, camera e bagno privo di sanitari. Oltre a due camere, due terrazze e mansarda con bagno privo di sanitari al piano mansardato. Annesso è separato un magazzino. Abitabilità da richiedere. È occupato dall'esecutata e dal marito per sublocazione non imponibile. Si trova a Fae di Porto Bufolei, esattamente in via Bastie numero 6. Il suo valore è determinato in 100.000 euro, con offerti nel rilancio minimo in aumento di 20.000 euro. E proseguiamo con una serie di vendite senza incanto e a seguire con incanto, che si terranno presso l'apet di Treviso in via Giuseppe Verdi 23. Divisione giudiziale numero 3963 del 2009, prevista per il 6 marzo 2012 alle ore 11, di fronte al notaio delegato Alberta Corsi. Lotto unico in piena proprietà per l'intero. Abitazione singola nel comune di Cappella Maggiore in via Borgo Costa Curta numero 9, su due piani, è composta da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, bagno e due terrazze al primo piano. Due stanze nel sottotetto e locali accessori e garage al piano semi-interrato. Area scoperta di pertinenza corrispondente a 400 metri quadrati. Il prezzo base d'aste è determinato in 161.500 euro, con offerti nel rilancio minimo in aumento di 5.000 euro. Ed ora pignoramento numero 152 del 2008, previsto per il 6 marzo 2012 alle ore 12.30, di fronte al notaio delegato Salvatore Romano. Lotto unico in piena proprietà per l'intero. Porzione di bifamiliare su tre piani, composta da ingresso, pranzo, cucina, bagno con antibagno, soggiorno e portico di 12 metri quadrati al piano terra. Disimpegno, una camera con annesso bagno, guardaroba, altra camera, bagno e loggia di 12 metri quadrati al primo piano. Altro disimpegno, lavanderia centrale termica, cantina, due ripostigli e bagno al piano interrato. Il garage di 33 metri quadrati si trova in corpo di fabbrica distinto, area scoperta di pertinenza corrispondente a 3.000 metri quadrati, di cui parte censita al catastro terreni, con diritto alla proporzionale quota di comproprietà dei beni comuni, in particolare per la quota di un terzo dell'area scoperta comune, che è di 329 metri quadrati, destinata ad accesso dell'intero complesso residenziale. Si trova a Monfumo, in via Montegrappa, il suo valore è fissato in 161.500 euro, con offerte in rilancio minimo in aumento di 5.000 euro. E passiamo ora al pignoramento numero 771 del 2008, previsto per il 6 marzo 2012, alle ore 12.45, di fronte al notaio delegato Maurizio Viani. Beni di quattro lotti in piena proprietà per l'intero. Lotto secondo. Si tratta di una casa singola su due piani, a Nervesa della Battaglia, frazione Bavaria, in via Guido Alessi numero 33, presa numero 3. È composta da portico, ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, lavanderia, centrale termica al piano terra. Disimpegno, bagno, tre camere e guardaroba al primo piano, il garage di 30 metri quadrati e al piano terra. Area scoperta di pertinenza di 1.567 metri quadrati. Il suo valore è di 250.000 euro, con offerte in rilancio minimo in aumento di 7.500 euro. Il lotto terzo, nel condominio Enea, nel comune di Spresiano, in via Croda Granda, numero 6 barra A, è un appartamento al primo piano, composto da cucina, soggiorno, bagno, disimpegno, una camera e terrazzo al primo piano, con annesso magazzino al piano interrato. Il garage si trova al piano interrato, con diritto alla proporzionale quota di comproprietà dei beni comuni e i sensi di legge e in particolare per la quota di un decimo dell'area scoperta condominiale ancora censita al catastro terreni. Il suo valore è fissato in 72.500 euro, con offerte in rilancio minimo in aumento di 2.000 euro. L'otto quinto, si tratta di un fabbricato residenziale nel comune di Spresiano, in via Montepiano, numero 8, suddiviso in porzione ovest, di abbinata su due piani, composta da portico, ingresso, cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio al piano terra. Disimpegno, due camere, bagno, guardaroba e terrazzo al primo piano. Soffitta non abitabile al secondo piano sottotetto. Porzione est di abbinata su due piani, composta invece da portico, ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, centrale termica e lavanderia e ripostiglio al piano terra. Altro disimpegno, due camere, guardaroba, bagno e terrazzo al primo piano. Magazzino e auto rimessa per complessivi 33 metri quadrati al piano terra. Tettoia provvisoria di 67 metri quadrati, area scoperta per complessivi 650 metri quadrati. Il suo valore è determinato in 263.500 euro, con offerte in rilancio minimo in aumento di 7.000 euro. Ed infine l'otto sesto, abitazione singola con annessa area scoperta di pertinenza per 2810 metri quadrati. A Spresiano, in via Busco, numero 7, è composta da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, bagno, disbrigo, centrale termica, disimpegno, bagno, studio, porzioni di magazzino e portici al piano terra. Altro disimpegno, taverna e cantina, le troverete al piano interrato. Il suo valore è di 412.000 euro, con offerte in rilancio minimo in aumento di 12.500 euro. E passiamo alla divisione giudiziale numero 7795 del 2010, prevista per il 13 marzo 2012, alle ore 11.45, di fronte al notaio delegato Andrea Marchio. Lotto unico in piena proprietà per l'intero. È una billetta singola, si trova a Montebellune, in via Buziol, numero 27. È sviluppata su due piani fuoriterra e da ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina, due terrazzi, altro disimpegno, ripostiglio, due camere e bagno al piano terra rialzato, con annessi locali di servizio abusivi al piano terra e semi interrato. Troverete inoltre il garage di 19 metri quadrati, area scoperta di pertinenza di 435 metri quadrati. Il prezzo base è determinato in 336.000 euro, con offerti nel rilancio minimo in aumento di 10.000 euro. Ed infine, pignoramento numero 118 del 2007, previsto per il 20 marzo 2012, vendita alle ore 10, di fronte al notaio delegato Maurizio Bianconi. Si tratta di due lotti, il primo in piena proprietà per la quota di metà. È un appartamento nel condominio Belgrano 2, a Navolet di Gorgo al Monticano, ed esattamente in piazza 4 novembre. È composto da portico, ingresso, soggiorno, angolo cottura, due disimpegni, tre camere e due bagni, inoltre garage al piano terra. Il suo valore è determinato in 146.000 euro, con offerti nel rilancio minimo in aumento di 4.500 per la vendita con incanto. Il lotto secondo, in piena proprietà per l'intero, è una casa padronale, con al piano terra, locale ristorante e pizzeria di 228 metri quadrati. È composto da ampio portico, bar e servizi, 4 sale, due bagni con antibagno, zona centrale con forno, cucine con bagno e antibagno, sala esterna con struttura movibile su tende a cappannina ed ampio parcheggio. Al primo piano troverete il magazzino di 57 metri quadrati ad uso dell'attività commerciale. Sempre al primo piano, appartamento con ingresso indipendente, composto da ampia terrazza di 110 metri quadrati. Ingresso, soggiorno, cucina, due disimpegni, due bagni e due camere. Al secondo piano, vano sgombero di 125 metri quadrati, collegato con scala scomparsa all'appartamento. Inoltre, area scoperta comune, corrispondenti a 720 metri quadrati. L'appartamento e il vano sgombero sono gravati dal diritto di abitazione a favore di genitore e dei debitori esecutati. L'immobile si trova a Navolè di Gorgo al Monticano, in via 4 novembre. Il suo valore è determinato in 165 mila euro per la vendita con incanto. Offerte minime in aumento, corrispondenti a 5 mila euro. E per ulteriori informazioni su tutte queste aste, potete rivolgervi al delegato presso l'appet telefonando allo 04 22 59 05 56. Oppure potete rivolgervi all'istituto vendite giudiziarie di Treviso, che si trova in via San Francesco di Sales, numero 1, contattandolo allo 04 22 43 50 22. Ma ora vediamo insieme quali sono gli adempimenti obbligatori per la partecipazione alle vendite all'asta appet. Vendite e esecuzioni immobiliari delegate ai notai senza incanto. Offerte in carta legale con indicazione dell'offerente e del prezzo migliorativo offerto, da presentarsi in busta chiusa entro le 13 del giorno precedente la vendita presso l'appet Treviso, Viale Giuseppe Verdi 23, con allegati due assegni circolari non trasferibili intestati al notaio delegato, pari ciascuno al 10 e al 20% del prezzo offerto, uno per cauzione e l'altro per spese di vendita, copie a documento identità, codice fiscale e poteri di firma dell'offerente. Saldo prezzo entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Vendite e esecuzioni immobiliari delegate ai notai con incanto. Domande in carta legale da presentarsi almeno un'ora prima dell'asta presso l'appet Treviso, Viale Giuseppe Verdi 23, con allegati due assegni circolari non trasferibili intestati al notaio delegato, pari ciascuno al 10 e al 20% del prezzo base, uno per cauzione e l'altro per spese di vendita, copie a documento identità, codice fiscale e poteri di firma dell'offerente. Saldo prezzo ex articolo 585 codice procedure civili entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Informazioni presso apet Treviso, Viale Giuseppe Verdi 23, telefono 0422 590 556, fax 0422 411 322, email apetchiocciolanotariato.it E per chi fosse interessato a uno degli annunci, vi informo che c'è la possibilità di consultare gli stessi direttamente da casa, grazie al sito www.aste.it. Potete però ricevere l'annuncio anche via fax, contattando la Dinamo allo 0422 30 54 86. Per il momento, gentili telespettatori, Avviso d'Asta termina qui. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento in compagnia dei programmi di questa emittente. Grazie a tutti i nostri spettatori, vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento in compagnia dei programmi di questa emittente.